Mettiamoci al lavoro Mettiamoci al lavoro Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Alla rotatoria Uscire adesso Alla rotatoria Alla rotatoria Alla rotatoria Alla rotatoria prendere la seconda uscita Uscire adesso Alla rotatoria Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Eccoci arrivati Sani e salvi Alla rotatoria Alla rotatoria Grazie.